Parla tifoso dell'Azzurra! Benvenuti ad un altro video sul nostro canale. Oggi abbiamo per voi una notizia esplosiva ed esclusiva che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il nostro club. Ma prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna novità. Seguiamo insieme ogni passo del Napoli in questo viaggio verso la vetta. Il nostro team è sempre alla ricerca del miglioramento per ottenere i migliori risultati possibili. E sembra che stiamo per fare un grande passo in quella direzione. Antonio Conte, uno degli allenatori più rispettati e di successo oggi, sta per diventare il nuovo allenatore del Napoli. Sì, hai sentito bene! Conte e il Napoli hanno raggiunto un accordo triennale, e i dettagli di questa trattativa sono stati svelati nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il campionato italiano è appena terminato e il Napoli ha già rivolto gli occhi al futuro. Il presidente Aurelio de Laurenti se è determinato a realizzare una vera rivoluzione nel club, e Antonio Conte sarà l'artefice di questa trasformazione senza precedenti. Le parti non sono mai state così vicine e l'aspettativa è che la trattativa si concluda presto, con Conte annunciato ufficialmente come nostro nuovo allenatore. È stata una domenica molto intensa per Giovanni Manna, il nuovo DS, che sta guidando la trattativa per portare Conte al Napoli. Il sogno di contare sull'ex allenatore di Juventus e Inter è sempre più vicino a diventare realtà. Le discussioni sono progredite in modo significativo e ora siamo nella fase di finalizzazione degli ultimi dettagli. Il contratto proposto è di tre anni, con un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione, bonus compresi. La questione principale ancora da risolvere è la durata del contratto. Mentre il Napoli cerca un biennale con opzione di rinnovo, Conte preferisce un triennale senza clausole aggiuntive. Si tratta però di dettagli che non devono impedire la chiusura dell'affare. E ora, fan, vogliamo sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate del possibile arrivo di Antonio Conte? Pensi che sia la scelta giusta per guidare il nostro Napoli? Lascia il tuo commento qui sotto, discutiamo insieme di questa fantastica novità. Non dimenticare di mettere mi piace al video, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità sul nostro team. Forza Napoli sempre!